Il presidente Ferrile ha in mano questo librone così pieno, ricco di pagine, che è una raccolta dei prodotti di qualità del nostro paese, edito dalla Treccani. E qui c'è per lei una soddisfazione personale, credo importante, perché viene citata anche la doppa Prutino Pescarese. Sì, noi siamo citati come Abruzzo con 27 indicazioni geografiche e tra queste nella parte grassi e vegetali ci sono le tre doppa, Prutino Pescarese, Colline Teatine e Pretruziano Colline Terramane. Per me è una grande soddisfazione che i poligrafi di Stato abbiano fatto questa pubblicazione, che so che è andata a ruba, ma io sono stato fortunato perché mi è stato regalato direttamente dalla Treccani questa pubblicazione, che per me è preziosa in quanto sta a significare il valore della DOP e delle indicazioni geografiche della nostra regione, è un fatto anche culturale perché viene visto, letto in tutto il mondo e oggi sappiamo che produrre qualità, fare territorio, ma è legato intimamente anche alla cultura, alla storia di un popolo, le tradizioni di un territorio, perché se vogliamo fare veramente business e successo, oggi a fianco alla qualità di prodotto dobbiamo aggiungere quei valori che fanno emozionare e quindi il consumatore è sempre più orientato ad acquistare un prodotto di qualità e di eccellenza, ma che soprattutto emozioni. Grazie a tutti.